Cinghiali sempre più vicini alle abitazioni a Cerete, nuovi danni causati dagli animali si sono registrati infatti in un prato appena sotto le case di via Presenza a Cerete Alto. Qui i mammiferi hanno rovistato decine e decine di metri quadrati di terreno alla ricerca di radici. Già nelle scorse settimane vi abbiamo parlato delle incursioni dei facoceri locali a Songavazzo e danni delle coltivazioni di mais e di altri episodi nei prati appena sopra l'abitato di Cerete. La provincia di Bergamo è attiva da anni nel contenimento di questi quadrupedi inserendo anche nuove norme che stanno favorendo l'attività delle squadre impegnate nelle battute. Sembra però che l'arrivo di questi animali sia stato favorito dall'inserimento abusivo. L'abbattimento di un cinghiale dalle striature bianche a un incrocio con un maiale ha infatti dimostrato con maggiore evidenza questa tesi.